fratelli e sorelle carissimi che nella fede accogliete il quotidiano invito al banchetto del regno grazia e pace da dio padre del signore nostro gesù cristo il brano del vangelo domenicale che commenteremo è tratto dal testo di luca al capitolo 14 versetti 1 7 14 dalla narrazione siamo immediatamente introdotti in un ambiente conviviale è stato preparato un banchetto in casa di uno dei capi dei farisei e tra gli invitati vi è anche gesù versetto 1 e il giorno di sabato giorno di yahweh il dio creatore che il settimo giorno riposa dal faticoso lavoro della creazione ogni pio israelita il sabato entra nel riposo del suo dio riposando anche egli dalle fatiche del lavoro settimanale e questo dunque il giorno di festa in onore del signore la festa di carattere religioso è affiancata spesso da un banchetto visto come momento di gioia di aggregazione di condivisione non tutti però vivono l'avvenimento con questo spirito è proprio la conclusione del versetto 1 ad informarci che alcuni del gruppo dei farisei erano lì con sguardo indagatore e orecchi attenti alle azioni e alle parole pronunciate da gesù in questo contesto scaturisce l'insegnamento del signore il maestro infatti narra una parabola constatando l'avventarsi sui primi posti al banchetto da parte degli invitati in casa del fariseo la scelta notata anche dal signore è mirata si scelgono i primi posti vanità ambizione prestigio sono i motori del comportamento degli invitati gesù partendo dall'atteggiamento dei commensali prende l'occasione per annunciare ai presenti le condizioni per poter partecipare ad un altro banchetto quello del regno per entrare nel regno dei cieli è necessario vivere in relazione a dio una condizione di umiltà quella che ti fa sentire e vivere comportandoti da ultimo gesù parla di un banchetto non è un pranzo qualsiasi è un banchetto nuziale versetto 8 ci piace ricordare in questo istante un riferimento biblico tratto dal libro dell'apocalisse dove vi sono degli invitati al banchetto di nozze dell'agnello apocalisse 19 7 al banchetto del regno si entra con umiltà senza la pretesa di un posto certo nella salvezza operata nella gratuità del dono da dio e dal suo cristo colui che ti ha invitato al banchetto della salvezza ti potrà dire nella sua benevolenza amico vieni più avanti versetto 10 è nell'amicizia con dio vissuta oggi che noi prepariamo un posto di salvezza posto che non sceglie l'invitato ma il padrone di casa ad assegnare è lui che ci farà il dono della salvezza simbolicamente dal termine posto a condizione che veda in noi l'umile e fiducioso abbandono della fede il versetto 11 è la sintesi di tutta la parabola che gesù in pochi versetti ci ha narrato con l'intento di invitarci ad entrare nella salvezza perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato in queste parole sentiamo l'eco del cantico di maria il magnificat dove la vergine esalta dio che ha guardato l'umiltà della sua serva d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata luca 1 48 sintesi dell'insegnamento di gesù è questa se ti affidi in tutta umiltà al signore dio dio stesso ti darà la sua salvezza simbolicamente espressa col primo posto nel banchetto del regno dal versetto 12 le parole di gesù non sono più orientate sulla sola azione di grazia operata da dio nei confronti dell'uomo chiamato ad entrare nella salvezza ora gesù parla all'uomo nella persona del capo fariseo che lo ha invitato a lui dice qual è la via concreta per avere accesso al regno quando offri un pranzo o una cena non invitare i tuoi amici nei tuoi fratelli nei tuoi parenti nei tuoi ricchi vicini perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio versetto 12 tante volte il nostro agire non è dettato da una motivazione di amore quello che compiamo in relazione agli altri è spesso frutto di calcolo di convenienza di interesse di tornaconto la via della salvezza passa attraverso l'uomo e specificamente la persona del povero che inviterai sapendo che non avrà da ricambiarti versetto 13 questo non avere di che ricambiarti costituirà il motivo di una vera e incancellabile condizione di gioia sarai beato la beatitudine dell'uomo viene dunque dal fatto di poter essere dono senza ricompensa offerta senza calcolo oblazione senza ritorno la beatitudine è contenuta nell'azione stessa del donare mentre ti svuoti ti rientro mentre doni ai poveri ricevi la ricchezza di dio che è la beatitudine paradosso evangelico la nostra ricchezza consiste nel nostro svuotarci senza ricevere ricompensa alcuna la ricompensa sarà l'azione di grazia di dio alla resurrezione dei giusti versetto 14 è scritto infatti riceverai la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti cari fratelli sorelle alla luce di questa parola purifichiamo dunque il bene che siamo chiamati a compiere se vogliamo che sia il bene operato dal cristo attraverso la nostra persona facciamo ogni cosa senza interesse o torna conto senza la pretesa che ciò che compiamo sia riconosciuto o lodato dagli uomini gettiamo via ogni forma di narcisismo che ci fa agire compiaciuti perché operiamo il bene e così ci sentiamo più buoni chi ci chiede senza dare ci sta insegnando ad amare questo è il dono che dio ci fa in cristo gesù e vivere questo dono significa fare l'esperienza della beatitudine la ricompensa è rimandata alla resurrezione dei giusti mi sono spesso domandato che cosa sarà mai questa ricompensa che dovremmo ricevere inclinati come siamo al materialismo ci verrebbe la tentazione di cosificare o forse quantificare la ricompensa che vorremmo ricevere dal signore e se la resurrezione dei giusti fosse lei stessa la vera unica ricompensa che dio prepara per coloro che lo amano nella persona dei poveri un caro saluto a tutti nel signore